Barbara era ed è un'attrice con cui avevo voglia di lavorare da tantissimi anni. Ci siamo incontrati due anni fa e è un'attrice che stimavo da tantissimi anni per la sua carriera e per alcuni dei suoi lavori che mi sono rimasti nel cuore e che vedo, diciamo, che ho visto sin da ragazzino. Per cui desideravo lavorare con lei. Il nostro incontro è stato all'inizio un incontro conoscitivo dal quale incontro è nata l'idea di fare teatro insieme. Io le ho fatto alcune proposte del teatro che amo, come questa Medea che abbiamo deciso di fare. ed è stata lei tra i... io avevo proposto tre testi a scegliere questa Medea, chiaramente con mia grandissima soddisfazione. ed è stato un lavoro molto bello, molto lungo anche, un lavoro di prove molto lungo. E devo dire che Barbara è stata straordinaria per dedizione, professionalità, impegno. E' una... è una umiltà veramente rarissima, rarissima da trovare. Per cui è stato un incontro artisticamente per me straordinario. Gliene sono grato.